Buongiorno a tutti, oggi ho deciso di leggervi un articolo pubblicato sulla difesa della razza che come probabilmente saprete se siete affezionati di questo canale fu un periodico esegrabile diciamolo chiaramente, un periodico in cui si diceva tutto e il contrario di tutto in cui si andavano ad affermare come teorie mediche, scientifiche, biologiche qualsiasi tipo di spazzatura giornalistica, pseudo giornalistica di propaganda più bieca e becera che appunto vide la luce nell'estate del 1938 in occasione dell'avvio italiano del razzismo di Stato e che sarebbe appunto poi finito nell'estate del 1943 con la fine naturale del fascismo al governo del Regno d'Italia quindi un periodico che ebbe una sua alterna fortuna in cui scrissero tanti prezzolati tanti elementi pseudo autorevoli nella definizione di quello che doveva essere la dottrina razziale italiana ma in realtà che si andò a trasformare come una sorta di agglomerato, di unione malassortita di teorie strampalate, di teorie che avevano come minimo comune denominatore l'affermazione di una presunta superiorità razziale, una superiorità biologica una superiorità di qualsiasi tipo della cosiddetta razza italiana e che doveva appunto supportare all'interno di quella che sarebbe stata poi l'alleanza con la Germania appunto operata a partire dalla primavera del 1939 verso appunto poi quei disegni diabolici che fortunatamente sono crollati insieme alle ambizioni politico-militari dell'asse il numero che io vi voglio leggere è quello dell'anno quinto, numero 12, 20 aprile ventesimo anno dell'era fascista quindi siamo al 20 aprile del 1940-42 un numero che ho preso casualmente, nel senso che sfogliando io posseggo una collezione quasi completa di questa rivista me ne interessai anni fa per mie ricerche e ogni tanto la sfoglio per andare a, come si dice, non so se il ritro piange di fronte a degli abomini delle affermazioni che lasciano veramente tutto il tempo che trovano e oggi mi sono soffermato, mi è caduto l'occhio su un titolo ridicolo Arianità dell'Italia quindi già Arianità dell'Italia mi fa sorridere è scritto da Lino Businco io sono andato anche a cercare un po' chi era questo Lino Businco questo Lino Businco è stato un patologo presso l'Università Sapienza di Roma la Sapienza che scrisse numerosi articoli per la difesa della razza ma non solo, si occupava di teorizzare alcune teorie anche in sinergia con le omologo strutture tedesche e, ironia della sorte, non venne purato dopo la Seconda Guerra Mondiale anzi ottenne anche dei titoli, dei meriti da parte della Repubblica Italiana gli avevano concesso anche alcune decorazioni quindi questo ci conferma come in realtà la speranza che la Repubblica Italiana la democrazia potesse in qualche modo non tanto punire ma non premiare coloro che si erano infangati di supportare delle teorie come quelle razziali che erano assolutamente agli antipodi di qualsiasi concetto di umanità, di democrazia, di filantropia ma di vivere civile, diciamo più banalmente di vivere civile invece appunto personaggi come l'autore di questo articolo poi ebbero comunque una certa libertà nel poter continuare a fare sostanzialmente quello che facevano prima ovviamente non scriveva più queste bagianate però diciamo che lui che era del 1908 riuscì comunque fino alla fine degli anni 90 a cui morì in qualche modo essere ancora partecipe seppur in maniera proporzionata della vita accademica scientifica del nostro paese ma andiamo a leggere quello che Businko scrive in questo articolo in cui appunto si intitola Arianità dell'Italia il termine ariano come espressione razziale venne per la prima volta portato agli onori di una larga notorietà dal conte de Gobineau per il de Gobineau l'elemento razziale che domina nella storia è l'Ariano i popoli ariani sono i creatori delle maggiori conquiste della civiltà e come tali destinati a realizzare le più luminose tappe del progresso etnicamente l'Ariano è una espressione dei popoli cosiddetti indo-europei poiché il de Gobineau ha particolarmente studiato questo aspetto dell'interpretazione razzistica della storia sarà utile riportare direttamente le sue idee contenute nel seguente brano che traduco dal celebre saggio sulla inuguaglianza delle razze umane quindi sostanzialmente in questo momento ci sta riportando il pensiero di de Gobineau le nazioni ariane d'Europa e d'Asia presa nella loro totalità osservate nelle loro qualità tipiche e comuni ci hanno sempre meravigliati per questa attitudine all'impero e al dominio che essi esercitano costantemente sugli altri popoli anche su quelli bianchi o mescolati in mezzo ai quali o dopo i quali essi vissero sotto questo solo riguardo non è già difficile riconoscere nei confronti della rimanente umanità una supremazia reale perché in questi argomenti ciò che appare esiste veramente la superiorità degli ariani non risiede in uno sviluppo eccezionale e costante delle qualità morali essa consiste in una più grande ricchezza dei principi da cui tali qualità derivano non bisogna dimenticare che quando si studia la storia delle società non si discute in alcun modo della moralità delle medesime non è per il vizio o la virtù che le civiltà si distinguono le une dalle altre sebbene prese nel loro insieme valgano meglio della barbaria ma lì vi è una conseguenza puramente accessoria del loro lavoro l'ariano è sempre se non il migliore degli uomini dal punto di vista morale o almeno il più illuminato sul valore intrinseco delle azioni che lui compie le sue idee dogmatiche sono sempre in questa materia le più sviluppate le più complete quando è vittima di una situazione sfavorevole il suo corpo resta corazzato e così il suo cuore duro verso la propria persona non è da meravigliarsi che sia spietato verso gli altri e su questo elemento inflessibile che egli pratica quella giustizia di cui erodoto vantava l'integrità presso gli sciti pellicosi l'ariano è dunque superiore agli altri uomini principalmente nella qualità della sua intelligenza e della sua energia ed è per queste due qualità che quando egli riesce a vincere le sue passioni i suoi bisogni materiali egli può ugualmente raggiungere una moralità assai più alta questo ariano si presenta la nostra osservazione nel ramo occidentale della sua famiglia e lì ci appare vigorosamente costruito bello d'aspetto e bellicoso di cuore come lo ammirammo nell'India, nella Persia e nell'Ellade Omerica qui finisce la citazione di Dicobinot occorre tuttavia precisare cosa oggi scientificamente parlando si intende per ariano quindi questo è l'elemento che Businco ci sottolinea del termine ariano si è allungamente occupato il professor G. Poisson in una celebre opera pubblicata qualche anno fa il Poisson sostiene che occorre distinguere fondamentalmente due significati uno linguistico e l'altro razziale soltanto in questo modo si eviterà di incorrere in incresciose confusioni linguisticamente come è noto sono classificate lingue ariane o indo-europee meno precisamente dette indo-germaniche le seguenti indiana, iraniana, armena che appartengono al gruppo orientale ellenica, italica, teotonica, celtica, slava, baltica, albanese tutto del gruppo europeo questo è quanto di scientificamente accertato c'è nel campo linguistico la cosa interessante è che mette l'italica ma tutte quelle altre neolatine sono escluse quindi qual è la discriminante che accomuna l'italica dalla teotonica la celtica e la slava e le altre di natura sassone o di natura neolatina non vi fanno parte perché politicamente ovviamente nel 1942 non si può dire quindi già siamo su un arzigogolo di mera politica questo è quanto di scientificamente accertato c'è nel campo linguistico cioè è proprio accertato scientificamente la parentela fra tutte queste lingue è un fatto su cui non vi è alcuna discussione è ovvio che l'italiano e il teotonico la lingua italiana, ellenica, teotonica, celtica, slava, baltica, albanese hanno scientificamente una loro somiglianza mentre la spagnola, la francese, la portoghese, la romena e altre o per quanto riguarda la germanica, l'inglese, l'olandese, ecc e quelli, vabbè, lasciamo perdere non si può discutere lo dice Businco non si può discutere la comunanza fra le lingue orientali e quelle occidentali venne osservata per primo dall'italiano Filippo Sassetti un mercante fiorentino del Cinquecento che per i suoi traffici ebbe occasione di compiere lunghi viaggi nei paesi di Levante seguirono le osservazioni dello Cordeaux e dello Schlagen sino all'opera fondamentale del BOP pubblicata nel 1816 stabilita la comunanza delle lingue indoeuropee o ariane si presentarono agli studiosi due problemi essenziali risalire alla lingua originale comune o proto-ariana e identificare il paese di origine della popolazione che per prima aveva parlato quella lingua nello sforzo di identificare gli elementi comuni del linguaggio proto-ariano si è giunto a risultati assai interessanti è noto per esempio che i vocaboli ecus, pecus, sus, bos, porcus, taurus, canis sono comuni al sanscrito, al greco e al latino e si dimostra da questa comunanza originaria che i popoli ariani prima di disgiungersi avevano imparato ad addomisticare gli animali così pure dalla comunanza del sanscrito dam, del greco domos e del latino domus si deduce che gli ariani primitivi già costruivano le proprie abitazioni e qua mi sembra che stiamo arrivando un po' se vi ricordate il film Il grasso grosso matrimonio greco in cui il padre cercava di spiegare come qualsiasi parola in tutto il mondo compreso karaoke o kimono fosse comunque originario del greco perché in qualche modo c'era un'assonanza a qualche altra parola infine come altro esempio atto a illustrare il grau di civiltà di questi popoli si riporta la comunanza delle parole naus sanscrito, naus greco e navis latino tutte indicanti navi da cui si desume che gli antichi ariani conoscevano anche l'arte del navigare quindi abbiamo capito che addestravano gli animali avevano una casa e facevano le navi diciamo che un po' tutte le civiltà facevano queste cose non è che solo i cosiddetti ariani dopo aver ricordato questi essenziali elementi di linguistica si può per maggior dettaglio riportare un elenco più completo dei linguaggi indio-europei attualmente conosciuti quindi vediamo quali sono quelli indio-europei quindi sarebbero quelli ariani 1. indiano, vedico, sanscrito ecc poi iranico, persiano antico, zend, parsi ecc 3. greco e suoi dialetti italico, latino, osco, umbro, romanzo 5. celto, gallico, brettoni, irlandese ecc quindi abbiamo anche il gallico che sarebbe il pezzo francese 6. germanico, gotico, tedesco, antico ecc baltico, prussiano, lettone, lituano 8. slavo, russo, polacco ecc 9. illirico, decimo, tracio e frigio quindi se nello slavo c'è anche russola quindi anche i russi sono ariani e quindi tutta la teoria anti-russa della teoria razziale anche i polacchi sarebbe naufragabile, sarebbe contestabile però sappiamo che l'alleato germanico considerava gli slavi inferiori razzialmente rispetto al proprio concetto di ariano ma diciamo che se i tedeschi anche gli italiani non erano ariani però vediamo cosa ci dice Businco per andare a dire l'arianità dell'Italia concludendo su questa prima parte può affermarsi che il termine ariano ha linguistagamente parlando un suo significato ben preciso e concreto intendendosi con esso una comunanza di lingua sulla base di una comune origine quindi sostanzialmente abbiamo detto che il latino, il russo, l'iranico, il germanico tutti derivano dalla stesso ceppo così dice costatata l'esistenza di un gruppo di lingue ariane fra di loro comuni per portarci sul piano razziale occorre domandarci se alla parentela linguistica corrisponde una parentela di sangue per chiarire la questione occorre cercare di riportarsi alle origini dove abitavano chi erano i primi ariani secondo Schröder i protoariani stavano fra il Caspio e l'Arar Irt li poneva invece nel settentrione d'Europa Fic nella regione Causa Causica mentre Sergi poneva l'origine di uno di questi gruppi in Africa quindi non erano neanche d'accordo questi tre come si vede non vi è una concordanza di opinioni può ricordarsi ancora che la sede di questi ariani primitivi era posta dal Müller nell'Asia centrale mentre altri come il Dalloi e il Litton sono per una origine europea tra le altre sedi più note ci diremo il sud-est europeo Spiegel le pianure tra Urali e Mare del Nord Kuno, Axel e Royer e infine la Russia meridionale secondo Child tralasciando questi problemi di dettaglio sono problemi di dettaglio sostanzialmente da dove vengono gli ariani chi dice dall'Africa, chi dall'Asia, chi dall'Europa è un problema di dettaglio secondo Businco quindi tralasciando questi problemi di dettaglio con il sussidio degli studi paletnologici ed antropologici occorre fissare i punti essenziali dello sviluppo delle genti europee lo studio delle antiche culture mostra che in Europa nel quaternario più antico esisteva una popolazione che usava l'amigdala, un ciottolo appuntito da entrambe le facce e dove abitava questa industria ha lasciato i suoi segni Spagna, Italia, Francia, Inghilterra mentre manca totalmente nell'Europa centrale e orientale si può trarre pertanto questa deduzione che gli uomini che la diffusero partinano verosimilmente dall'Asia minore venendo per i paesi riveraschi del Mediterraneo ma se stanno in Spagna, Italia, Francia e Inghilterra perché dall'Asia minore? questo non ce lo spiega comunque venendo ad epoche relativamente più recenti va detto che le scoperte di Cro-Magnon e precisamente quella dell'uomo della Maiella Rellini e quella del cranio dell'olmo Sergi hanno mostrato la presenza di una razza d'olicocefala che per il suo complesso di caratteri può identificarsi col tipo mediterraneo di Giuseppe Sergi nel periodo neolitico io già inizio a non capire nulla scusatemi nel periodo neolitico come attestano i numerosi ritrovamenti di sepolcreti l'Italia e l'Europa erano popolate prevalentemente da questa razza d'olicocefala del tipo appunto detto mediterraneo successivamente nel periodo neolitico si ha in Europa e in Italia una nuova immigrazione di genti principalmente caratterizzata dalla brachicefalia questa immigrazione di nuove genti avvenne per l'Italia circa nel X secolo a.C. il processo di fusione fra i due gruppi di popolazione iniziò quindi in epoca antichissima e poté rafforzarsi in Italia meglio che in altre parti d'Europa soprattutto per le condizioni geografiche della penisola che stabilendo un favorevole isolamento biologico hanno finito con il creare l'attuale tipo fisico dell'italiano nel suo complesso ben distinto da quello delle altre popolazioni europee ma a questo punto occorre formulare un'altra domanda fra il gruppo originario mediterraneo e le popolazioni venute nel periodo neolitico vi è parentela di sangue? indubbiamente la risposta è affermativa oggi gli studiosi concordano nel ritenere che le genti europee abbiano avuto un comune centro di origine che però non è esattamente quello che avevano detto quelli altri di prima però oggi la disputa è stata appianata da questo centro e in un primo tempo si sono partiti i mediterranei e successivamente altri gruppi indiano, persiano eccetera sino alle migrazioni dei popoli venuti in Europa nel neolitico in base a queste vedute i mediterranei debbono considerarsi come il popolo di sangue ariano che per primo ha lasciato la sede originaria esso è pertanto da considerarsi razzialmente dello stesso ceppo degli altri che successivamente sono venuti per altra via in Europa perciò tutte le componenti biologiche che fanno la razza italiana debbono considerarsi evidentemente ariane peccato che poi dal X secolo a.C. fino ad arrivare al 900 sono passati quasi 3.000 anni quindi diciamo che in qualche modo seppur vi fosse una purezza razziale dell'ariano nel X secolo a.C. forse in qualche modo si era mutata ma ripeto, sempre dando per buono quello che dice sul X secolo quindi diciamo, veramente siamo facendo i castelli per aria ma il termine ariano oltre che un significato linguistico e antropologico ne ha un altro affermatosi nella letteratura razzista di questi ultimi decenni se pensavate che fosse finito invece no ariano viene inteso come europeo per eccellenza proprio come espressione più elevata della nostra civiltà e quale popolo può vantare al di sopra del nostro una meravigliosa capacità creativa nel campo delle arti delle scienze del diritto del lavoro ovunque lo spirito umano è portato a mostrare l'eccellenza delle sue qualità e mi sembra che faccia un po' il paio con il discorso mussoliniano e l'Italia popolo di santi poeti, navigatori trasmigratori eccetera se ariano significa super europeo l'italiano merita certamente questa qualifica quindi diciamo se ariano è super europeo l'italiano è per forza super europeo l'ha detto Busingo chiudendo questo articolo può concludersi quindi chiudendo questo articolo può concludersi che non vi può essere dubbio di sorta non si può discutere circa l'arianità della razza italiana sotto l'aspetto linguistico sotto quello antropologico ed infine anche al vaglio delle realizzazioni civile quindi diciamo che Busingo è estremamente chiaro e non dà veramente possibilità di smentire da parte di nessuno perché ha evidenziato tutto cioè che volete di più cioè come ripeto se ariano significa super europeo l'italiano merita certamente questa qualifica perché chi meglio dell'italiano cioè di fronte a tutta questa disquisizione che ripeto è scritta da un patologo quindi stiamo parlando di una mente eminente che come dicevo si presta a scrivere queste porcherie io adesso voglio essere cioè di fronte io ve l'ho letto perché volevo che se no altrimenti parliamo di aria fritta cioè questa rivista era comprata era forse anche letta almeno nel poi ha avuto un calando nel 38 era diffusissimo aveva delle tirature impressioni anche perché venivano sostanzialmente regalate venivano c'era la fornitura per tutti gli uffici pubblici le scuole veniva dato gratis ecco poi dopo si sono accorti che era una porcheria anche coloro che la promuovevano erano diventati veramente quattro gatti i i i referenti politici ecco che in qualche modo pagavano questa questa roba e quindi ebbe un crollo sostanziale però comunque nel giro dei fanatici diciamo circolava seppur poche migliaia di copie comunque poche migliaia di copie venivano comunque lette in qualche modo c'era della gente che prendeva degli stipendi come questo individuo che in qualche modo veniva pagato per scrivere queste fesserie e qualcuno lo leggeva e ci credeva pure quindi diciamo mi sembra tra l'altro vorrei dire ci sono un sacco di pubblicità adesso non voglio vabbè ve ne faccio vedere alcune questa delle sigarette però non ve ne faccio vedere altre diciamo sono facilmente rintracciabili nelle pieghe di queste di queste copie ci sono anche delle società che ancora esistono o quantomeno esistono nelle loro filiazioni quindi non mi sento di di proporvele perché sennò poi magari però venivano finanziati cioè c'erano dei sponsor delle pubblicità delle inserziorie che oggi chiameremmo gli inserzionisti che pagavano per pagare questa gente che poi scriveva queste queste fesserie poi ripeto molti di questi poi sono andati avanti cioè Guidolanda Guidolandra scusate Guidolandra avevamo visto tempo addietro che c'era anche addirittura Almirante che era segretario di redazione di questa di questa rivista quindi diciamo ci sono delle persone che poi dopo in qualche modo si sono riciclate hanno fatto qualche modo abbiura in maniera così non so se cosciente se sincera delle proprie posizioni pregresse però dopo hanno continuato e in qualche modo diciamo sono un po' anche figli di questa roba qua di questa roba qua in cui si scriveva veramente delle cose non solo assurde ma dannose ma criminali sotto ogni punto di vista il fatto di dover andare a continuamente porre l'accento sulle presunte differenziazioni razziali che partivano appunto da concetti antropologici da concetti culturali da concetti biologici da concetti di sangue in cui tutto veniva ripetuto continuamente le razze umane esistono di Guido Landra cioè se io vi leggessi i fattori biologici delle unità razziali di Silvestro Baglioni accademico d'Italia cioè veramente abbiamo personaggi di questo tipo che scrivevano su questa su questa rivista e c'era qualcuno che la comprava e c'era anche qualcuno che ci credeva ecco il concetto di razza è puramente biologico di Lidio Cipriani che però è bello che non andavo neanche d'accordo perché uno era il concetto di razza è puramente biologico quello di prima ci ha detto che c'era anche l'elemento culturale l'elemento di intelletto l'elemento spirituale quindi non c'era neanche un carattere del razzismo fascista continuità storica della razza italiana quindi come a voler continuamente ribadire dei concetti che però a leggerli bene a leggerli in maniera integrata cozzavano tra di loro quindi diciamo non riusciva neanche ad avere una visione una linea editoriale comune perché ognuno poi era portatore della propria parrocchia e aveva ovviamente anche interessi soprattutto economici ma anche interessi di potere perché ovviamente stare qua dentro seppur ripeto era screditato nei mesi venne screditata questa rivista alla fine veramente nel 43 quando chiuse nessuno nessuno ne sentì la mancanza perché appunto era una rivista che era divenuta il ridicolo veramente la caricatura di se stessa rispetto a quello che poteva essere nel 38 che magari aveva anche una sua finalità politica seppur deprecabile però col tempo ci si è accorto di essere sostanzialmente un disco rotto che diceva sempre le stesse stupidaggini e diceva anche le stesse stupidaggini e magari anche loro non ci credevano perché a furia di ripeterle si erano anche stancati loro di scrivere sempre le stesse stupidaggini dovendo ogni volta aumentare la carica polemica la carica veramente di stupidità di quello che veniva realizzato e scritto detto questo come al solito vi da mettere mi piace iscrivetevi al canale e alla prossima ciao